il nostro fotografo roberto cortese che ci parla da 0 a 100 in 12 mesi grazie debora che non ci hai fatto neanche venire l'ansia per sto microfono adesso vediamo se funziona allora anzitutto ciao a tutti sono qui oggi a parlarvi di come far crescere il vostro canale youtube sostanzialmente prima di incominciare voglio sapere quanti di voi ditemi la verità hanno un canale youtube alzatemi le mani brava carlotta altrimenti ti beccavo subito ok qualcuno secondo me oggi potreste cambiare idea vengo subito al dunque se ce la faccio e come mai fatto provo di nuovo ok ci siamo sì innanzitutto un conto è caricare video su youtube un altro è farci veramente guardare insomma è come saper fare il proprio lavoro e sapersi in realtà vendere veramente la cosa assoluta scusate che mi dimentico sì la cosa che vi farò vedere alla fine di questo speech è una formuletta magica che vi aiuterà sicuramente in nel vostro nel vostro viaggio sono sicuro che al di là delle mani che avete alzato tanti hanno il sogno nel cassetto di fare l'influencer o comunque avere un canale di successo in qualche modo questa questa formuletta vi aiuterà la cosa più importante che spero che passi dal mio speech è che potete fare tutto quanto da soli con questo non vi sto dicendo che non dovreste chiedere aiuto a un professionista che sia un designer videomaker qualunque cosa ma per iniziare non vi serve nient'altro che la vostra buona volontà e questa insomma se siete qua ce l'avete secondo me cominciamo io sono quel simpaticone che ieri offriva il viaggio da da berlino in realtà stranamente ho scoperto che c'è qualcun altro qua che abita a berlino a lei sì ciao dopo ci prendiamo un caffè e cosa faccio di lavoro oltre a farvi le foto qua faccio anche il videomarketer cioè lavoro con youtube produco ma soprattutto mi occupo di quello che è proprio il lato di farsi guardare lavoro per questa start up che si chiama oberlo abbiamo un canale che ha più o meno 40 mila iscritti ci abbiamo dedicato del tempo sostanzialmente da poco più di 45 mesi sta crescendo parecchio e per questo che oggi sono qua a raccontarvi cosa cosa ho scoperto mi trovate anche da poco sto lanciando questo questo progetto parallelo che si chiama youtube lab però ve ne parlerò dopo cominciamo innanzitutto che cos'è youtube qualcuno mi sa dire al volo mi dà una risposta bravissimo incredibilmente non me l'aspettavo che sarebbe arrivata subito bravo un mojito arriva subito youtube è per essere precisi il secondo motore di ricerca più grande al mondo dopo google che l'ha acquistato non per niente tra l'altro ha circa un miliardo 300 milioni di utenti a 5 miliardi di video visti al giorno praticamente significa che ogni persona sulla faccia della terra ogni giorno guarda un video in media che non è malaccio soprattutto che cos'è è un mercato di domanda diretta se siete stati qui l'anno scorso enrico marchetto vi ha detto che facebook è un mercato non è un mercato di domande diretta perché le notizie vi ve le sbattono in faccia su youtube invece andiamo noi proattivamente a cercare una risposta abbiamo bisogno cerchiamo una risposta bene ma cosa me ne faccio di questa cosa è una grandissima opportunità per quello per quello che mi riguarda e la fase di crescita che sta vivendo adesso youtube è la stessa che sta che stava vivendo google 12 anni fa quindi c'è ancora un po di confusione la gente non sa come far crescere il proprio canale come farsi trovare le opportunità ci sono per quello per farsi scoprire la prendo un po alla distante alla lontana dobbiamo capire come guadagna youtube bello sapete tutti quanti lavora solo con gli ad sostanzialmente quelli che fanno vedere all'inizio oppure a metà del video che state guardando ciò significa che ci sono dei canali che sono privilegiati per per youtube e che sono quelli che mantengono l'utente più attaccato al video oppure che sono bravi a far guardare più di un video se il canale fa vedere più video significa che youtube può far vedere molti più annunci pubblicitari quindi più soldi quindi ti tratto un po meglio ecco perché la chiave di tutto è aumentare quello che si chiama il watch time qua vado un po sul tecnico ma cercherò di non annoiarvi sostanzialmente che cos'è è il tempo di visualizzazione in minuti che il vostro canale accumula durante ogni mese e questo è a detta di youtube stesso è il fattore di ranking più importante in assoluto è il vostro trampolino di lancio questo sulla base di quanto bene andate in termini di watch time youtube vi porterà nelle posizioni più in alto o più in basso ovviamente c'è questa formuletta matematica perdonatemi qua è il mio istinto di ingegnere che viene fuori che è questo qua sostanzialmente si calcola in questo modo come è il prodotto delle visualizzazioni per questo fattore che ho chiamato ar che si chiama audience retention di cui vi parlerò dopo quindi se dobbiamo farci piacere da youtube significa che dobbiamo aumentare questo watch time per aumentarlo possiamo aumentare questi due valori o entrambi come si aumenta il numero di visualizzazioni prendete pure appunti qua comincia il bello innanzitutto le cose che si vedono perché scegliete scegliamo di vedere un video sostanzialmente per due cose per l'anteprima e per il titolo l'anteprima deve essere innanzitutto deve avere una paletta colori adeguata youtube come sapete sostanzialmente tutto bianco con un po di rosso un po di nero quindi deve spiccare la cosa più importante anzi tra il titolo e l'anteprima e l'anteprima ci deve essere anche poi il vostro sguardo in camera se potete fatevi una foto separata non prendete un frame del video così la potete anche ottimizzare altra cosa importante come vi anticipavo il titolo non deve essere click bait assolutamente perché youtube segue anche la polisi di google cioè se non riesco a dare la risposta che cercava l'utente con quella query significa che quel video non è rilevante cioè ti demuovo scusate la traduzione pessima dell'inglese deve essere anche riassuntivo perché quando facciamo la ricerca vogliamo capire subito se quello il video che fa per noi oppure no e saltare oltre in pratica ho fatto una breve ricerca per email marketing e questo è quello che viene fuori come vedete la prima e la terza anteprima sostanzialmente dicono tutto quello che ci serve soprattutto questa cercato email marketing e lei ti dice come entrare facilmente nel mondo dell'email sguardo in camera questo titolo è un po click bait però dovrete imparare a come dire ad andare su sulla soglia camminare su quella soglia youtube da poco vi ha messo a disposizione ci ha messo a disposizione questo strumento stupendo che è fatto apposta per valutare quanto bene sta andando alla nostra combinazione di titolo e di anteprima questa impression city are sostanzialmente è il rapporto tra quante volte siamo stati cliccati rispetto a quante volte siamo stati siamo usciti da qualche parte o nei video suggeriti oppure nella ricerca appunto si trovate nella nella parte di analytics in beta che fa ancora abbastanza pietà però è solo lì purtroppo ed è comunque ancora una una feature beta quindi insomma prendetela un po con le molle altra cosa che dicevamo prima per aumentare questo famoso watch time è aumentare questa audience retention questo è il grafico tipico della audience retention e che rappresenta sostanzialmente dove si sono sganciati i nostri spettatori ok questo video ha una percentuale di visualizzazione media del 58 per cento significa che in media l'utente arriva poco più di metà 58 per cento idealmente noi vorremmo che tutto il video fosse visto non ci riusciremo ma adesso vi spiegherò come fare per arrivare più in là possibile quindi se non avete preso appunti cominciate pure adesso perché arriva la formuletta magica se fate attenzione a tutti i video di successo su youtube hanno tutti seguono tutti questa formuletta c'è sempre un hook c'è un aggancio ci sono 20 secondi in cui vi giocate tutto quanto dovete dire perché l'utente dovrebbe stare con voi fino alla fine se gli rispondete al loro bisogno e appunto di fargli capire che devono stare fino alla fine non solo finché rispondete alla domanda successivamente potete mettere se volete ma non è non è importante una specie di sigletta questo potrebbe tornare utile per il branding mettiamo subito una call to action non aspettiamo fino in fondo perché non tutti arriveranno fino in fondo al nostro video sì siamo bravi ne portiamo qualcuno ma perché non farlo vedere subito breve ovviamente però diciamogli subito iscriviti al mio canale così le prossime volte troverai altre cose che ti interessano poi passiamo ovviamente al contenuto che deve essere stringato deve essere diretto al punto su youtube nessuno vuole stare a vedere i vostri giri gori andiamo diretti al punto fidatevi che tra cinque dieci minuti è davvero tanto se producete cinque dieci minuti il contenuto e per chiudere ci sono questi secondi 15 secondi che dovete usare bene tre per saluti e baci che sono adesso ve lo racconto sono le end card come le chiama youtube se potete fatevi disegnare una end card custom perché insomma aumenta sicuramente il valore del canale mettete subito ovviamente il vostro logo con che vi aiuta a iscrivervi al canale e l'ultima cosa maledizione aggiungete anche una preview del prossimo video da guardare mettete una al massimo due se ascoltate il mio consiglio mettete soprattutto le playlist non solo i video questo è un po l'esempio che facciamo noi come vedete la la end card custom questo qua è il logo che vi dicevo quando si passa sopra uno può ci si puoi scrivere e questo è il video successivo il mio speech in realtà l'ho strutturato apposta per seguire la stessa formuletta magica adesso vi vi faccio capire come vi ho detto all'inizio quali sarebbero stati i problemi risolti o comunque la vostra domanda latente quello che vi disturbava e che a cui avrei potuto rispondere e vi ho fatto restare comunque vabbè voi siete qua non è che potevate comunque ci sono riuscito a farvi stare qua non ho fatto la sigla perché logicamente non si poteva magari l'anno prossimo vi ho detto dove mi potete trovare sul mio cioè vi ho fatto una call to action subito poi vi ho dato ovviamente una risposta niente fuffa come sempre e i saluti baci vabbè li faccio tra tra pochissimo alcuni consigli al volo innanzitutto non improvvisate questa cosa mettete in testa non improvvisate mai perché comunque cominciate a girare attorno l'argomento non sapete no non funziona preparatevi uno script tanto google alla fine youtube alla fine ha bisogno anche dei sottotitoli ce l'avete già pronta almeno non dovete neanche fare fatica microfono e manco a dirlo come diceva debora usate un gobbo esistono questi vetri semi traslucidi una roba del genere non so il termine preciso vi consentono di guardare in camera e allo stesso momento leggere sono fantastici costano una stupidaggine e poi software qua so già che si drizzeranno i capelli agli amici videomaker i movie va benissimo qualunque software per cominciare questa in realtà è la cosa più importante di tutte vi troverete comincerete i vostri video faranno pietà sicuramente l'audio farà schifo questo non andrà bene con l'altro non andrà bene non importa la cosa importante è che vi abbiate sempre sempre voglia di sbagliare perché da quegli errori tra et tra rete ai migliori insegnamenti con questo in realtà io ho finito e se avete domande grazie mille roberto per i preziosi consigli